mamma io sono andato a fare un bagno e cosa hai mangiato prima di venire al mare allora ho mangiato un pezzettino di che che è così piccolo allora tra tre ore lo puoi fare bagno eh sì ma altro hai mangiato anche una caramella così piccola però tra cinque ore allora lo puoi fare no eh sì ma anche altro hai mangiato no allora cinque ore di allora vado a giocare con gli altri bambini aspetta vieni che ti metto la crema no la crema no vieni vieni non vai a giocare altrimenti eh vieni ok allora posso andare aspetta dove stai andando mettiti anche gli occhialini il capello i braccioli e anche la ciambellina ma dai sto solo giocando non farmi arrabbiare altrimenti non vai vuoi giocare con me no